Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui ore 13.30 come sempre per parlare insieme di fantacalcio. Arriviamo alla terza parte di questo quartetto di video che ormai è diventato un quartetto e non più un tris dedicato a questo nuovo argomento degli expected goal. Ieri abbiamo già analizzato i giocatori più importanti di otto squadre, oggi andremo ad analizzare quelli di altre sei squadre e domani martedì andiamo a chiudere con le ultime sei squadre. Come sempre vi ricordo che quello che cerchiamo in questo tipo di analisi sono delle differenze abbastanza sensibili sia in positivo sia in negativo tra il valore dei goal effettivamente realizzate finora e quello degli expected goal, degli XG. Quando troviamo delle differenze possiamo così trarre delle conclusioni. Perché? Perché se troviamo un giocatore che ha un valore di XG molto più alto dei goal effettivamente fatti vuol dire che prima o poi la ruota dovrebbe girare anche per quell'attaccante e o è un attaccante che cronicamente sbaglia i goal davanti alla porta o può essere semplicemente un periodo un po' dove è sotto forma, un po' dove è sfortunato e quindi dobbiamo aspettarci un maggior numero di goal da qui in avanti. Viceversa se abbiamo un giocatore che ha un valore di goal fatti molto superiore al valore di XG avremo un giocatore che o è un fenomeno dal punto di vista balistico cioè fa sempre dei gol belli, dei gol spettacolari e allora potrebbe effettivamente continuare o è un attaccante super cinico che comunque gli dai tre occasioni da goal in tre partite e ti fa tre goal oppure semplicemente stava in un periodo di forma dove sta effettivamente overperformando appunto rispetto al suo reale valore e allora lì deve così accendersi un campanello d'allarme e a quel punto lì dobbiamo capire effettivamente se abbiamo gli scambi aperti se valga la pena o meno tenerlo oppure darlo via. Allora detto questo prima di continuare se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like se vi va attivate anche la campanella ricordatevi di mettere tutte le notifiche altrimenti poi non vi arrivano le notifiche delle live dei video eccetera eccetera io vi ricordo che oggi pomeriggio sarò in live nuovamente indicativamente intorno alle ore 18 poi su instagram vi metterò l'orario preciso ma insomma intorno a quell'ora lì sarò in live con voi per rispondere a tutte le domande sugli scambi così stasera ci possiamo guardare poi la partita dell'italia domani sera invece ore 21 ci andiamo a fare una live sarà una live piuttosto lunga dove andiamo a fare il torneo dei giocatori più iconici degli ultimi 25 anni inizialmente la mia idea era fare così prendere un campione di 16 giocatori poi mi sono reso conto che lasciavo fuori davvero troppe leggende e alla fine ne ho scelti 32 quindi ci sarà da divertirsi ragazzi ci saranno 8 gironi da quattro squadre insomma vedrete si ci si diverte ma questo domani sera eccoci qua allora parliamo del torino partiamo subito dal gallo belotti intanto quello che ci deve così mettere un po di curiosità sul nome di belotti parlando di xg è che belotti finora ha giocato veramente poco lo sappiamo ha fatto sette presenze ma solamente 318 minuti dovuti all'infortunio che lo ha tenuto per più di un mese fuori dai campi da gioco ma nonostante questo ha fatto due gol ma se andiamo a vedere il valore di xg ha un valore molto basso 0,44 questo vuol dire che belotti anche se ha giocato poco effettivamente sta facendo veramente bene per quel che ha giocato a livello di occasioni questo vuol dire due cose da un lato se il toro continuerà a fare un ottimo campionato a creare occasioni da gol per i suoi attaccanti belotti sicuramente è un attaccante che può fare bene allo stesso tempo però occhio perché quando ha giocato belotti non ha avuto così tante occasioni da gol quelle che ha avuto le ha realizzate però dobbiamo stare attenti perché se non avrà tante occasioni da gol la sua doppia cifra io credo che l'andrà a fare ma potrebbe essere una doppia cifra bassa ok discorso diverso se il torre inizia a creare più occasioni anche per il tipo di gioco che fa belotti che ha un gioco diverso ad esempio da sanabria e allora a quel punto lì il giocatore diventa interessante sanabria infatti ad esempio è il contrario di belotti mentre ha fatto due gol e un assist ha un xg più alto quindi vuol dire che sanabria qualche gol se lo è anche mangiato ok ma vuole anche dire che quando ha giocato sanabria il toro con sanabria ha creato più occasioni per lui quindi occhio belotti sarà il titolare ma il torrino secondo me deve iniziare a giocare anche per belotti perché belotti già gioca per la squadra ma la squadra deve anche giocare per belotti ok altri nomi interessanti li vediamo molto velocemente ma sono tutti abbastanza in linea con il modello xg abbastanza in linea con la realtà pobega praet e tutti gli altri vi faccio solamente notare come ad esempio singo anche lui se in linea ad esempio un gol e due assist secondo il modello xg dovrebbe essere un gol e un assist quindi comunque sono tutti valori molto in linea non c'è nulla così di importante da evidenziare passiamo all'empoli l'empoli invece una squadra molto interessante ve l'avevo già accennato quando abbiamo parlato delle squadre perché perché ci sono certi giocatori e tra poco lo vedremo che stanno oggettivamente overperformando rispetto a quello che avrebbero dovuto fare a seconda delle occasioni che hanno avuto cioè pinamonti ad esempio ha fatto quattro gol giocando solamente 711 minuti e ha un valore di xg di 383 quindi qua siamo in linea federico di francesco invece ha tre gol all'attivo ma addirittura un valore di xg inferiore a un gol cioè vuol dire che se noi andiamo ad analizzare i gol che ha fatto di francesco non sono gol banali o comunque non sono gol che se la stagione continuerà su questo canovaccio andrà a ripetere molto quindi prima di dire ok di francesco ha fatto tre gol nelle prime 12 partite benissimo allora faccio per tre faccio 369 di francesco va vicino alla doppia cifra occhio di francesco sta andando molto bene ok poi secondo me un altro dato interessante è quello di bairami che ha fatto due golle e un expected goal di due quindi quello che poteva fare bairami lo ha fatto è un po il discorso che abbiamo visto per scamacca ieri cioè le occasioni avute da bairami lui le ha realizzate discorso diverso è quanto giocherà bairami sta giocando 559 minuti sono pochi e ultimamente stanno anche diminuendo quindi secondo me qui occhio più che altro al discorso dell'utilizzo possessore di bairami il mio consiglio è tenerlo aspettare gennaio e sperare che vada a giocare da qualche parte o che cambi la situazione all'empoli poi secondo me gli altri nomi sono abbastanza in linea in realtà modello xg non c'è molto da dire diciamo che comunque analizzando un po i dati degli attaccanti e di chi ha fatto bonus finora dell'empoli come noterete guardate i primi nomi qua sono tutti a parte cutrone in verde vuol dire che più o meno tutti hanno segnato più gol di quelli che avrebbero dovuto fare quindi occhio perché vuol dire che sul medio lungo termine se le cose a livello di gioco creato non cambiano beh potremmo vedere una flessione in generale dell'empoli non di un singolo giocatore arriviamo al verona ragazzi che come abbiamo già detto l'altra volta è sicuramente forse una delle due tre squadre più interessanti da analizzare sotto l'aspetto degli expected goal perché perché il verona realizzato 25 gol ma ha un valore di xg inferiore a 18 gol vuol dire che più di 7 gol sono stati realizzati in circostanze inconsuete o comunque difficili ma andiamo a vedere a chi ci andiamo a riferire partiamo ovviamente da simeone allora ragazzi su simeone bisogna fare un discorso molto serio molto importante so che tanti di voi stanno facendo degli scambi dando simeone o prendendo simeone quindi è necessario assolutamente un approfondimento allora simeone ad oggi ha fatto 9 gol e 2 assist ma il modello xg ci dice che dovrebbe essere intorno ai 3 gol fatti e ha un valore di expected assist inferiore a 1 ora lasciamo perdere gli assist che in questo momento su simeone ci interessano il giusto parliamo dei gol allora se lui avesse effettivamente fatto 3 gol finora avremo la proiezione di simeone a fine anno che era quella che avevamo detto quest'estate io avevo detto simeone nella migliore delle ipotesi potrebbe fare una doppia cifra bassa se facciamo il conto siamo intorno ai 10 massimo 11 gol ovviamente ne ha già fatti 9 ok questo vuol dire che sicuramente ha fatto dei gol simeone non banali e che non si fanno tutte le partite ok pensiamo a tutti i gol che ha fatto ultimamente benissimo e dobbiamo capire due tre cose da questi dati qua la prima cosa e ce l'eravamo già detta è che sicuramente simeone non può continuare questi ritmi grazie vorrebbe dire chiudere la stagione vicino ai 30 gol perché ne ha fatti 9 in 10 presenze tra l'altro perché quindi insomma sono sono dati veramente importanti però attenzione mettiamo anche che da qui in avanti facciamo questa ipotesi negativa pessimista su simeone il suo rendimento smetta di essere così eccezionale ok ma che si vada ad allineare al valore di xig atteso quindi dobbiamo ipotizzare che il verona continua a fare questo tipo di gioco che però simeone faccia tra virgolette solamente i gol che deve fare cioè solamente i gol facili i gol probabili benissimo se noi prendiamo il dato di 3.16 su le 10 presenze qui che abbiamo tenendo conto che siamo alla tredicesima giornata cioè la prossima sarà la tredicesima giornata vado un po ad approssimare il dato vuol dire che altri sette gol nella peggiore delle ipotesi simeone li fa perché vuol dire più o meno tre gol ogni 10 11 partite ne mancano ancora 38 meno 12 fa 26 ebbè sono sì sono 7 8 gol gol più gol meno questo vorrebbe dire che simeone chiude la stagione a 16 17 gol ok che è un dato già per di per sé eccezionale e ripeto ragazzi stiamo facendo l'ipotesi normale poi ovvio che simeone potrebbe anche andare peggio degli expected goal cioè potrebbe avere da qui in poi un xg di 3 ma mangiarsi le gol davanti al portiere assolutamente sì finora tutto quello che poteva fare quello tutto quello che poteva trasformare in gol lo ha trasformato in gol però diciamo che il valore di xg è una via di mezzo tra l'ipotesi ottimista o molto ottimista che continui su questo ritmo che vorrebbe dire una stagione record per simeone e l'ipotesi molto pessimista che non solo finisca di fare così bene ma che addirittura inizia a fare male ok 3 su 10 11 partite è una media solitamente le medie sul lungo periodo ci prendono quindi facendo una media altri 7 8 gol simeone ce li può portare che cosa vuol dire che se avete simeone ora e lo volete dare via vi dovete fare dare un top perché ragazzi l'abbiamo visto l'altro giorno simeone ad oggi è l'attaccante con una migliore fantamedia assurdo assolutamente sì inaspettato assolutamente sì ma dobbiamo guardare la realtà i numeri non mentono in questo momento simeone è il migliore ok a inizio anno nessuno ci avrebbe creduto come nessuno ci avrebbe creduto che crescito fosse a 5 gol ci sono tante cose che non avremmo creduto ma il calcio e il fantacalcio sono fatti così quindi se avete simeone fatevelo pagare come un top se però dovete andare a prendere simeone ma non date un top cioè io ho già sconsigliato degli scambi non ha senso dare via giocatori come zapata lautaro immobile questi giocatori qui per andare a prendere simeone un discorso se mi dite scommetto che il belotti della situazione mi faccia al massimo 9 10 gol io credo che simeone ne faccia 20 quest'anno scommetto su simeone dove a belotti prendo simeone lo scambio sta in piedi è equo si può essere d'accordo meno ma ci sta ma dare via un top che ti dovrebbe dare delle garanzie di gol attesi superiori a quelli che ti dovrebbe dare simeone non ha senso lo vedremo tra un po poi quando andremo a parlare di alcuni top quindi ragazzi simeone giusto andarselo a prendere ma giusto fare una stima di un giocatore che potrebbe chiudere la stagione intorno ai 16 17 gol e 9 li ha già fatti discorso diverso e se dovete svenarvi per andare a prendere simeone che può fare i 20 gol li può fare ma che realisticamente parlando ci dà meno garanzie ad esempio di un vlaovic ok poi lasciamo stare il discorso del mercato di gennaio ma un vlaovic che resta firenze rigorista ci dà sicuramente più garanzie di un simeone per quanto riguarda il superamento dei 20 gol ok questo è importante ragazzi io credo che il valore di xg di simeone ci dica tanto nel bene e nel male ok parliamo di barack ragazzi barack è assurdo come giocatore perché quattro gol fatti e due assist ma ha un xg di 5,58 che cosa vuol dire vuol dire che barack potenzialmente può fare ancora meglio perché noi barack ora lo abbiamo in testa come il rigorista del verona che quando c'è un rigore ci fa gol giustissimo ma barack anche senza rigori è sempre stato un centrocampista quando ha fatto bene da 5 6 7 gol a campionato quindi in teoria non è un dato così assurdo pensare che barack oggi potrebbe essere già 5 6 gol perché abbiamo aggiunto i rigori a quello che era già barack quindi barack può davvero essere insieme ad altri che abbiamo già citato uno dei crack di quest'anno anche qui se avete barack ma o vi danno un top 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 acc a centrocampo oppure andare via barack per prendere dei top in questo momento in flessione che sia un mkhitaryan che sia uno zaniolo ma non ha senso è vero che zaniolo potrebbe fare 6 7 gol io ci credo ma anche barack li può fare e in questo momento mi tengo barack che mi dà più garanzie ok discorso diverso se vado a prendere barack cosa devo fare beh devo provare a giocare o sul nome di di alcuni giocatori che ho ti do mkhitaryan cavolo ti do comunque uno dei migliori centrocampisti dell'anno scorso se non uno dei migliori appunto però ti sto dando un giocatore che sembra totalmente fuori dal progetto ma ti do mkhitaryan puntiamo sul nome quando diamo i giocatori puntiamo sulla sull'effettivo rendimento invece quando li abbiamo noi cioè se ci chiedono barack ma io in questo momento o mi dai chiesa che io credo che comunque poi farà top 3 a fine anno a centrocampo posso pensarci su pellegrini ok poi però dopo parlerò anche di pellegrini posso pensarci su milinkovic savic ok ma già se mi offre malinoschi io ho dei dubbi se farlo meno perché è vero che poi malinoschi nel giro di ritorno magari fa come l'anno scorso mi fa 7 8 gol ma barack ho già una certezza ha i rigori e mi fa dei gol su azione malinoschi non ha i rigori perché non li ha sulla carta i rigori e può fare bene potenzialmente dovessi scegliere un giocatore a livello di calcio tutta la vita scelgo malinoschi è ovvio ma parlando in ottica fantacalcio e quindi se ci mettiamo la titolarità il turnover e tutto il resto oggi per assurdo che sia scelgo barack ok poi caprari sta overperformando a testimonianza di quello che solitamente vi dico occhio a pensare già un caprari in doppia cifra ok secondo me difficilmente arriverà in doppia cifra mentre poi tutti gli altri nomi ragazzi sono molto molto in linea da notare faraoni che è leggermente over performante zaccani vabbè ha cambiato squadra quindi non lo consideriamo è interessante anche andarsi a vedere un po ilice che più o meno in linea con le sue aspettative anzi ha fatto anche un paio di assist in più grazie alle giocate di simeone benissimo ragazzi il verona è stato un po lungo da analizzare ma ripeto secondo me era una delle squadre più interessanti da fare andiamo al bologna il bologna ci sono tre quattro giocatori da analizzare allora aronatovic ha fatto cinque gol e un assist addirittura per il modello xdg ne avrebbe dovuti già fare sei quindi vuol dire che le occasioni aronatovic le ha e che la doppia cifra è sicuramente alla portata anzi secondo me al netto di infortuni è assolutamente sicura e potrebbe davvero io avevo detto inizio anno aronatovic una doppia cifra bassa beh potrebbe anziché farne 11 o 12 potrebbe farne anche 15 o 16 quindi occhio ad aronatovic barrow invece sta overperformando a testimonianza che se ne fa 10 in un anno secondo me va già bene tutti gli altri nomi chi più chi meno sono più o meno in linea ovviamente de silvestri sta overperformando a livello di bonus swamberg leggermente overperformando ik e idem e così anche teate da notare invece soriano ragazzi soriano è un nome importante da analizzare perché a fronte di zero gol fatti e due assist il modello xdg ci dice che dovrebbe essere già a due gol a testimonianza che a soriano sta anche un po girando male io non ho dubbi sul fatto che alla fine dell'anno anche quest'anno soriano sarà fatto i suoi 4 5 6 gol è un momento no possessore di soriano tenetelo se volete andare a prendere un cc dal potenziale maggiore di quello che ha fatto andiamoci a prendere soriano tutto il resto poi c'è poco da dire non ci sono grosse grosse cose da dire ecco andiamo alla prossima squadra e passiamo alla juve la penultima squadra che andremo ad analizzare oggi e sulla juve ci sono un paio di discorsi interessanti da fare paolo dibala gol fatti 3 assist 3 expect gol 2 che cosa vuol dire se uno legge il dato così freddo e dice ok il modello xg è solamente è la verità dibala due gol attesi ne ha fatti tre ma allora dibala fa schifo occhio ragazzi perché perché intanto dibala ha preso anche dei pali almeno un paio mi ricordo sicuramente da posizioni molto complicate perché dibala è uno di quei giocatori che va a distruggere il modello xg perché perché spesso dibala fa i gol difficili che può fare solamente dibala che può fare solamente ilicic che possono fare solamente giocatori di un certo tipo quindi andiamoci cauti sul discorso dibala è vero che in teoria sta già facendo meglio del valore dei gol attesi ma in realtà dibala se non si mangia dei gol cosa che solitamente non è solito fare dibala avrà sempre un valore di gol migliore del valore di xg proprio perché fa gol che gli altri non dovrebbero fare quindi su dibala occhio a prendere il dato degli xg 2 come un dato negativo ok anzi io farei questo ragionamento su dibala ho un dibala che tra acciacchi infortuni turnover giocando solamente 664 minuti mi ha fatto 3 gol che vorrebbe dire una proiezione al fine anno di 10 11 gol quanti rigori ha avuto la juve pochissimi e uno ad esempio lo ha battuto bonucci perché dibala non era in campo quindi se un minimo la juve iniziasse a giocare meglio che so che in questo momento sembra fantascienza ma se fosse così ragazzi dibala da 10 11 gol potenziale si si passa subito a 14 15 quindi tenetene conto anche qui poi chi possiamo andare a vedere morata che qualche gol se l'è mangiato e infatti l'xg non mente dovrebbe essere a 3 mentre invece morata a 2 morata può fare di più e deve fare di più ma qui ci sono anche dei demeriti da scrivere a morata gli altri più o meno ragazzi c'è poco da dire sono tutti in linea sono tutti in linea forse quadrado leggermente più alto rispetto al valore degli xg ma ha un expected assist di 183 mentre assist 0 vuol dire che su alcuni traversoni su alcuni assist su alcuni passaggi di quadrado qualcuno si è mangiato dei gol quindi non mi aspetto ancora tantissimi gol da quadrado ma mi aspetto degli assist da quadrado questa è la disamina che possiamo trarre secondo ovviamente il modello degli expected goal andiamo a chiudere il video di oggi così poi ci lasciamo le ultime 6 squadre per il video di domani con la fiorentina e nella fiorentina ragazzi ci sono sostanzialmente 3-4 nomi da prendere in considerazione ovviamente dusan vlaovic che al netto di tutti i discorsi che possiamo fare di gennaio oggi ha fatto già ad oggi ha già fatto 8 gol e un assist mentre il modello xg ci dice che dovrebbe averne fatti 5 che cosa vuol dire vuol dire che vlaovic è uno di quei giocatori un po come dibala un po come ilicic che fanno dei gol che forse possono fare solo loro ma allo stesso tempo che è un attaccante molto cinico se vlaovic ha le occasioni da gol lui le realizza non è uno che si mangia tanti gol ma allo stesso tempo occhio perché non è detto che continui su queste medie gol quindi se anche qui facciamo il discorso che abbiamo fatto per simeone vlaovic dovrebbe essere nel bene nel male un giocatore che mi fa più o meno 5 gol ogni 11 12 partite se fosse così anche da qui fino a fine campionato ipotizzando che vlaovic resta firenze comunque altri 11 12 gol me li fa ne ha fatti 8 ipotizziamo che magari un rigorino lo potrebbe anche sbagliare a 19 20 gol ci può tranquillamente arrivare quindi anche qui avete vlaovic capisco che gennaio sarà un mese inferenale per voi però prima di andarlo a svalutare completamente io ci andrei molto molto cauto nico gonzalez in realtà con in linea è in linea con il modello due gol fatti contro 246 ci siamo buonaventura in linea biraghi in linea saponara in linea milenkovice in linea qui non c'è veramente molto da aggiungere andiamo a vedere se ci fosse qualche differenza sostanziale su altri giocatori ma onestamente l'unico dato interessante era quello di vlaovic che appunto sta segnando più del 2,88 rispetto al modello xg rieccoci qui ragazzi rieccoci qui anche oggi qui ne abbiamo analizzato veramente nel dettaglio alcuni giocatori chiave per i vostri scambi penso a vlaovic penso a simeone abbiamo parlato di tanti nomi davvero appunto importanti in questo momento io spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate un like i like ragazzi sono importantissimi mettete il mi piace è gratis non vi costa nulla e aiuta un sacco il canale a crescere sia nei risultati per quanto riguarda le live sia anche per quanto riguarda i video mi raccomando grazie mille io vi saluto vi ringrazio ci vediamo oggi in live se vi va per i consigli sugli scambi oppure domani ore 13 30 con l'ultimo video dedicato all'argomento degli expected goal o domani sera con la live sul giocatore più iconico degli ultimi 25 anni grazie mille ragazzi ciao a tutti e alla prossima ciao